Ciao! Oggi un nuovo video riguardante una nuova azienda che ho conosciuto da poco che si chiama Nuova 1950, di cui fa parte da pochissimo tempo mia sorella che è diventata una consulente di bellezza di questa nuova azienda. Devo dire che mi piace veramente moltissimo la loro filosofia. Hanno sede a Bergamo e Verona e il capo di tutto quanto è un farmacista. Ho visto all'interno dei Deplian, che mi ha dato mia sorella da vedere, che i loro prodotti sono totalmente naturali, hanno degli ingredienti veramente buonissimi e infatti mi sono incuriosita e ho voluto acquistare qualcosina. Anzi, se volete saperne di più, vi lascerò qui sotto nell'info box il link sia del sito internet di questa azienda ma anche la mail di mia sorella. Così, se siete curiose e volete provare qualcosa o volete avere qualche informazione in più, potete contattare direttamente lei. Direi di iniziare subito col farvi vedere che cosa ho voluto acquistare io. Allora, mi è arrivato tutto all'interno di questo pacchettino e come prima cosa ho trovato la pochettina che danno in omaggio con ogni ordine ed è questa qui, tutta nera, appunto, questo è il logo di questa azienda, Nuva 1950, bellezza, benessere e vitalità. Dietro è completamente liscia e ha due tasche, due scompartimenti. Questo qui è molto profondo, quindi non vedo l'ora di utilizzarla, di infilarla direttamente in borsa. E poi quest'altra taschina dove mia sorella mi ha già inserito dei campioncini che vi faccio vedere immediatamente. Allora, la prima è questa qui, che è una crema viso. Adesso vi faccio vedere subito. Ok, eccola. Questa è una crema viso idratante e nutritiva per pelli sensibili, irritabili, a tendenza di cuperose. E questi qui sono gli ingredienti. Fate pure un fermo immagine, così potete dare un'occhiata. Ok, poi un'altra, sempre di crema viso idratante e nutritiva. Poi una crema viso lifting, eccola qui, per pelli normali e miste. Quindi non vedo l'ora di provarla, anche perché è proprio per il mio tipo di pelle. Questi sono gli ingredienti. Poi, un siero viso all'acido ialuronico, per pelli normali e miste. E poi, un altro, sempre di crema viso all'acido ialuronico, sempre per pelli normali e miste. Contengono ognuno 3 ml di prodotto. Oh, non sono a fuoco. Ok, eccomi qua. Scusate, ma sto facendo pratica con la nuova webcam che mi è stata regalata per Natale. E quindi ho qualche problemino un attimo di zoom. Ma non vi preoccupate che nei prossimi video riuscirò a capire come si fa. Questa è solo una prova per vedere come riesco a gestirmi. Comunque, andiamo avanti con il video. Poi, ho acquistato... Allora... Questo qui, che è un tonico viso. Ecco. Mettiamolo zoom. Eccoci qua. Questo tonico in lozione per pelli normali e miste. Da 200 ml. E questi sono gli ingredienti. Spero riusciate a leggerli. Vediamo se riesco a fare un pochettino ancora di zoom. Vediamo un po'. Ecco qua. Sì, adesso riuscite a leggerli bene. Ecco qui. Poi, lascio direttamente me fuori fuoco, così vi posso far vedere direttamente i prodotti. Poi ho preso questo latte detergente, sempre per pelli normali e miste. Da 200 ml. E questi qui sono gli ingredienti. Ecco qua. Hanno una scadenza di 6 mesi. Sì, tutti quanti. E non vedo l'ora di provarlo. Poi ho preso la mousse per la pulizia del viso, sempre per pelli normali e miste. E questo ha 150 ml di prodotto. E questi qui sono gli ingredienti. E questo qui invece ha il dispenser a pompetta. Eccomi qua, sono tornata a fuoco. Ha il dispenser a pompetta, stavo dicendo, quindi è molto comodo così non si spreca il prodotto che c'è all'interno. E poi, come omaggio, ho ricevuto la crema contorno occhi. Adesso ritorno fuori fuoco io per farvi vedere. Ecco qua. Questa è la crema contorno occhi, sempre della linea per le pelli normali e miste. E contiene 15 ml di prodotto. Ecco qua. Bellissima la confezione. Speriamo fare un pochettino ancora di zoom. Così vi faccio vedere anche gli ingredienti. Eccoli qua. E questo invece ha una scadenza di... No, anche questo sei mesi. È molto carina la confezione. Adesso beva apro, così vi posso far vedere. Eccolo qua. Questo è il contorno occhi. Molto bella la confezione. Mi piace veramente tantissimo. Nera. Anche perché ho saputo... Eccomi qua di nuovo. Ho saputo che utilizzano le confezioni nere appunto per preservare l'integrità del prodotto. Così non c'è nessun tipo di problema magari anche per i filtri solari, per il calore. Quindi il prodotto è completamente integro. Senza essere alterato. Non mi su dire purtroppo i prezzi perché giustamente io li ho presi da mia sorella. Nel caso se volete saperne di più comunque contattate direttamente a lei. In ogni caso vi ho lasciato comunque il contatto qui sotto nell'info box. Questi erano i prodotti che ho voluto acquistare per provare questa nuova azienda. E non vedo l'ora di iniziare a provarli. Fatemi sapere se volete poi una recensione più avanti nello specifico. Perché sono ben felice di poterli provare. Così vediamo un po' se sono dei prodotti veramente validi. Come ho letto sul Deplian e come mi ha parlato anche mia sorella. Fatemi sapere se conoscete questa azienda. Magari nelle vostre regioni c'è qualche consulente di bellezza. Io vi mando un grandissimo bacione. Spero che questo video vi abbia tenuto tantissima compagnia. E siate felici di rivedermi finalmente dopo un bel po' di tempo. Perché sono stata assente per via appunto del problema che avevo alla webcam del computer. E niente ci vediamo alla prossima. Ciao!